e salve ragazzi bentornati sul canale di zio ivan siamo di nuovo insieme ad alessio e oggi si gioca a duke nukem 3d stiamo giocando ecco ti stiamo giocando in coop ti vedo tu sei rosso io penso che che colore so è tu sei rosso a me giusto perché bello siamo uguali vabbè tanto vedrete soltanto la schermata mia alessio ci sarà come esterno abbiamo deciso di farci la modalità cooperativa in modalità super ultra mega giga difficile quindi mostri a go go difficile messo e te credo certo se non è divertente quando si sta in due è meglio ok quindi prendiamo un po di roba tu l'avevi già prese no che è meglio bravissimo perfetto allora scendiamo ma metto un'arma un po più potente perché tra un po eccoci ci sei non c'è un modo per non farse male quando cascavano no però appena atterri c'è sta subito o vada che te sparano c'è sta subito un medikit tranquillo l'ho accoppato tu intanto balsa agevolmente per prendere l'rpg io ti sto riprendendo riprendo ecco le tue gesta eroiche attenzione vai spit che lo prendo anch'io un posto segreto questo qui fa veramente male infatti adesso o porco boia che colpo che mi ha preso ci sono io ci aspetta che io mi ro lì dentro ecco attento sia attento la bada che qua non è facile entra ti ricordi aia porco cane me sono rotto le caviglie ti ricordi che nella seconda finestra si può entrare qui si ah è vero c'ha ragione mi piace che cammini da lato tipo michael jackson si vede tutto il difetto degli sprite poi quando vedrai attento dietro io sono entrato ottimo si vedeva tutto il difetto dello sprite bidimensionale poi quando vedi il video te ne rendi conto vieni qua che te da ecco questi sono tipo steroidi dai io ho presa la metà vegliatrice grande io pure porco cane ci spara ci spara grande ocio al maiale vai tranquillo vai tranquillo tannacopato vai ti aspetto alessio responerà all'inizio del livello ma per fortuna stiamo vicini quindi a breve porca caccia vacca piena di mostri a breve lo vedremo cadere stile babbo natale eccolo ma porca vacca ma sono sbagliato ecco fatto grande qui sopra c'era la salute atomica attento attento chi cavolo ma gli sto spara pure io guarda entriamo dal davanti dal cinema aspetta qua dentro c'è stanno i proiettili per la pistola normale io sto dietro io me ne è comparso uno proprio davanti al naso stai entra da dietro entra si sono sempre il solito ma siamo nel cinema diverso aspetta che poi non è ripigiala sta attento mamma mia non l'ho preso io no 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 eh io sì qui c'è il terremoto dove sei andato ecco lavoriamo insieme vai l'ho finito io solo occhio siccome c'è il fuoco amico acceso non mi mette davanti c'è ragione c'è ragione la ragione vai esploso ho rischiato da sparagli una cirurata il dentro ci dovrebbe sta come passo giovano finisci l'arma te cambia l'arma da E infatti è un po' l'infamata Io sparo all'estintore C'è un fucile a pompa Porco cane Dove sei andato? Guarda io pure non è che me la passo troppo bene Ho recuperato qualcosa Sì io sto cercando a capire Ragazzi in questa modalità è veramente difficile Però è anche estremamente divertente Oh ecco Alessio perfetto Attento Mi sa che t'ho pure sparato un par de minardi sui reni Eccoli Porca Eccolo Grande Attenzione Aspetta lo faccio Ah ma stai Oh oh Dove sei andato? Ma dove stai? Ah ah Ma sapete che mi spari? No io stavo a sparare a lui Ah ok silenzio un attimo Io sparavo a lui Ok silenzio un attimo Vai insieme Ecco Eh sta un attimo al bagno Uno un po' un attimo fa una cosa in pace E no lo so Un po' se stesso Cioè uno un po' sta po' se stesso Oh attenzione Più sparato sul penne calcola Grande Attento dietro Oh Io lo adoro quando urla in quel modo suoni di una volta sono fantastici sono perché scompari dove sei andato sul classare c'è un vostro nel bagno attenzione io sparato un piede a questo dove sei dove sei colore del pg calcola ho visto tutto che esplodeva in pratica grande si è aperto si è aperto qui sopra aspetta che sto un'altra volta giù io ma mi sbaglio ci sono molto molto meno munizioni il fatto guarda le munizioni per fortuna responano sempre via saliamo un attimo eh bravo saliamo qua sopra ma ho visto un topo si è pieno dei topi qua a posto piazza pulita vabbè a te non ti voglio far soffrire che cattivo pronto fuori uno fuori due fuori tre ecco la tessera la tessera mamma mia insieme io dovrei curarmi un attimo perché non sto proprio tanto per la quale intanto mi prendo le rpg ah no so pieno ok aspetta accendiamo il cinema guarda finiti oh attenzione qua sotto è pieno c'è stata attenzione c'ho solo c'avevo solo otto un altro colpo e mi avresti ammazzato calcola vai apriamo il passaggio segreto ma avete dovuto ammazzare porco cane ok arrivo aiuto divaniamo a salvare sto correndo arrivo più in fretta che posso sto facendo un attimo un po di fincetta di armi arrivo eh ma giusto qua ci siamo entrati vengo da te vengo da te eh ma se non sento sto ecchi me sto un'altra volta qui alle sto nella stanza sto nei bagni sto ah ecco te aspetta che forse è caso di accendere la luce aspetta eh accendo la luce ecco adesso ci vediamo ah maledetto il cinghiale a posto allora ci abbiamo la chiave la la tessera quindi possiamo andare a finire il livello solo che prima volevo entrare un secondo nel cinema che prima ho aperto un varco mo sarà pieno di gente qua ok sto al cinema si si sto al cinema che prima ho sparato col missili dov'è che mi spara ah eccolo qui sopra ma famoni oh ma questi comunque li spavano proprio va si si ma mi sembra che c'è un limite perché dopo un po' quando ci ho giocato ieri con Uppio e Andrea dove sei? oh oh qui c'è un mostro mostro qui e mostro qua preso alle spalle scorrettissimo qui c'è stanno ci stanno proiettili aaaah l'ho visto sullo specchio dietro col cinema ci stanno pieno di gente arrivo arrivo dove sei? tra i bagni un'altra volta i bagni che sei in continente sempre i bagni tu mi hai sottolineato davanti sono morto porco cane quanti so mamma mia ho fatto proprio un'esecuzione mi sembra più della prima volta ma non ho capito sei morto? si mori ah quindi vabbè ti aspetto qui all'entrata ma ci stanno i mostri pure nel condotto si io l'hanno ammazzato porco cane non l'avevo visti mamma mia questo andrebbe giocato in otto in pratica per tenere testa a tutti sti mostri però però quando esci da qua sei schillatissimo comunque eeeh aaaah vai vai qua ci stanno un po' dei proiettili mannaggia aspetta levati 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 vai spara no vabbè ma chi mi ha fatto fuori tu eh io eh si t'ho detto levati che stavo a sparare con lanciamissili non è vero? ti sei levato ma poi sei tornato dai via qua andiamo a finire il livello non so se sono stati i tuoi riflessi o la mia mira allora attento che c'è la roba qui ecco si è quando ho lanciato il missile senti abbiamo la tessera quindi possiamo andare sopra qua abbiamo fatto tutto vai attento che qua scoppia tutto adesso vai ne metto la mitraglietta occhio non usci eh resta nell'ascensore a posto è saltato tutto per aria qua c'è aspetta prima di aprire la chiave c'era un oggetto qui mi sembra è il gioco di Duke Nukem 2D cioè Duke Nukem 2 non ho tempo per giocare con me stesso dove stai? via lui di te non è vero ah si ok perché non me fa oh chi è oh? ma io c'erò la chiave rossa perché non me la fa usare? sei sicuro che ce l'hai? eh ora la vedo no Ivan mi sa che la domanda di via ma io la vedo qua vabbè fammi una scappata andammo la riprende moriremo ma ah ci proviamo mamma mia come l'ho ammazzato non è il caso di proseguire con lanciamissili qua dentro vado avanti io attento eh che mochman sono io ecco caricatelo in ce sei? eccola no? ma ce l'abbiamo già forse perché la dovevi prende pure te? a me non me la fa prende vuol dire che già ce l'avevi? non c'è sul cinema oh l'hai chiuso eh no sta sul verde eh vedi che si sta chiudendo vabbè vai continuiamo torniamo là e provamoci andiamo giù no? si si mo dobbiamo riprendere l'ascensore qua se te devi curare c'è sta un po' di roba c'è andiamo opla mi sei davanti non vedo aaa dice è bloccato oh adesso ha funzionato ok e se vede che la dovevamo riprendere sta attento vado avanti ok mamma mia attento adesso non è andato a salmu sto viziaccio da mette mette davanti dai dai abbiamo finito dai che ci siamo non abbiamo sbloccato tutto quanto ma ma che cacchio è successo? non lo so tu mi hai sparato no mi sa che ti ho dato un calcio vabbè comunque vado a finire il livello lo finiamo insieme tanto te dovrei portare con me dici lei mi lasci qua da solo ah ok ok occhio attenzione subito immediatamente vai spara subito ecco a questo che vola qui 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 aaaaa quanto ti ho fatto male grande adesso aspetta dobbiamo entrare qua dentro ti ricordi questi che volano vai schiantato attento dietro mamma mia come te l'ho salvato sei morto e non sei riuscito è bellissimo guarda che strage qua c'è sta un medikit se te serve e direi che possiamo entrare nel negozio a luci rosse aspetta che c'è sta là sopra intanto c'è un cinghiale che te segue e il jetpack ho preso Ivan da paura si così potremmo oh e come si usa? aspetta un attimo aspetta ti difendo io appena ci abbiamo un attimo di tranquillità dunque tu con le freccette mi sembra che puoi scorrere i bonus e poi non so se con cerchio o triangolo bravissima ecco stai a volare con Y ok allora vai entramo qua posso pure abbassarti si si puoi salire e scendere quanto te pare ma sei morto? si non so chi mi ha ucciso è un cinghiale alle tue spalle mamma mia ecco mi hanno ammazzato pure a me va bene i cinghiali ma state avvelenati eh sono dannati so mamma mia oh mi ricarico vado a vedere se è ricomparso il jetpack si sta qua sopra si c'è sta eccolo ok tanto dopo un po' respona occhio al cinghiale mannaggia io sto sopra sto io sono fatti proprio cecchino eh eh bravo ma io sto a fare la cavia invece sono un filino tanti ma state avvelenati ma tanto eh loro sono tanti e noi ci abbiamo e noi siamo solo in due vai entramo qua dentro sennò questi continuano a pari occhio ah siete ok aspetta occhio sei morto vai entra subito mamma mia oddio mio ma quanti sono biglietti prego no biglietto no party mamma mia ma sono un oddio di gente si poi mi sa che c'è ripro ma difficoltà un po' inferiore no è figo così eh perché io me sto a divertire ma qua bisogna essere in tanti diciamo che questo andrebbe giocato con mouse e tastiera pure e questo diciamo nasce per essere giocato neanche tanto col mouse questo ai tempi dei dei vecchi pentium cioè si giocava solo con la tastiera e chi me serve a me arrivo questi sono quarantordici e io ho una pistoletta caricata elastici eh io pure sono tosti sti cinghiali ecco mi hanno ammazzato l'anima c'è loro io sto a cesso ecco mi hanno ammazzato nel cesso e con questo chiudo il gameplay buonanotte a tutti se vi è piaciuto lasciateci un like iscrivetevi al canale mentre ci sparano e noi ci vediamo alla prossima si me ne sto andando adesso ciao buonanotte ci sentiamo ci vedremo e ci sentiremo alla prossima ok magari se ci scappa pure con un'altra live ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao ciao ciao